Benissimo, buongiorno a tutti. Io vi ringrazio tutti di essere venuti. Questo è un evento del circuito ESOF, che è l'evento importante dell'anno prossimo che si terrà a Trieste per tutte le attività legate al forum europeo sulla scienza. Quindi abbiamo anche avuto il patrocinio del Festival dello Sviluppo Sostenibile, quindi siamo garantiti da diversi filoni importanti. La prima parte della conferenza è organizzata con alcuni brevi indirizzi di saluto degli organizzatori e degli sponsor. Purtroppo non sono tutti, quindi possiamo procedere, io credo. Però prima volevo ringraziare io personalmente l'associazione degli industriali che ci ospita, il Comune di Pordenone, che è il nostro principale sostenitore e che devo dire ha raccolto subito l'importanza di avere un evento del circuito ESOF qui in città. Il consorzio universitario con cui collaboriamo su diverse iniziative e logicamente il dipartimento di ingegneria e architettura a cui appartengo, o ancora il vecchio nome cablato nei circuiti. L'ordine degli ingegneri che ha attivamente partecipato all'organizzazione di questo evento, voglio ringraziare tutti quanti questi senza i quali difficilmente sarebbe potuto realizzare questa cosa. Poi, vabbè, forse erano i ringraziamenti da fare più alla fine, ma ci tengo a ringraziare in particolar modo anche l'ingegnere Ernesto, il senatore Safakin, che hanno collaborato attivamente alla parte pratica di questa conferenza. Io sono piuttosto sintetico, non sono uno che si dilunga molto, quindi vi informo che, come vedete, nella prima parte avremo alcuni saluti e poi avremo veramente l'onore di avere Gunther Paoli come relatore della keynote speech di questa conferenza. Gunther Paoli è il fondatore della ZERI, Zero Emission Research Initiative, ed è autore di molti libri legati alla Blue Economy e al nuovo paradigma dell'economia circolare che vogliamo promuovere anche con questa conferenza. E abbiamo anche i libri disponibili per chi fosse interessato più avanti. Quindi, per cominciare, io inviterei l'assessore Cucci del Comune di Pordenone che attraverso il Dipartimento delle Attività Produttive ha sostenuto moltissimo questo evento. Ringrazio di nuovo. Prego. Grazie. Grazie, professore. Non potevamo non cogliere questa grande opportunità per le attività produttive, per il nostro territorio e soprattutto per l'amministrazione comunale pordenonese. Porgo dunque a tutti voi il mio saluto, il saluto del sindaco Alessandro Ciriani, della Giunta e dell'amministrazione tutta. Beh, la storia dell'uomo è sempre stata un crescendo. Siamo progrediti e siamo cresciuti in tutti i settori. Scienza, conoscenza, qualità della vita, salute, economia e industria. E nell'ultimo secolo questo fenomeno ha avuto un'accelerazione esponenziale. Devo dire che inebriati da questo successo, inizialmente ne abbiamo colto solo gli aspetti positivi. Solo successivamente abbiamo aperto gli occhi e ci siamo resi conto che questa crescita, questo processo, in questo processo c'erano anche delle zone d'ombra, degli effetti collaterali. Ci siamo dunque resi conto che la crescita eccessiva porta con sé anche degli effetti negativi che necessariamente dunque dobbiamo governare prima che ci travolgano come un boomerang. Questa è in primis una questione etica ma è anche una questione pratica. Gli scienziati ce lo dicono. Stiamo consumando tutte le risorse, stiamo inquinando troppo. Dunque il nostro modello economico e industriale, un modello economico basato su crescita ed accumulo non è più sostenibile. Cambiare dunque questo modello diventa imprescindibile. E questo come ho detto ce lo dicono gli scienziati, ce lo dicono gli economisti, ce lo dice anche il buon senso e ora ce lo chiedono a gran voce anche i giovani. Oggi l'innovazione è data dallo sviluppo di un'economia sostenibile. Anche la storia e l'arte ci ricordano come quelli che sembrano dei limiti e degli ostacoli non solo ci costringono a guardare il mondo con occhi diversi, ma anche ci indirizzano a cercare nuove strade, a cercare a elaborare nuove strategie con risultati sorprendenti. Il convegno di oggi va in questa direzione perché può farci notare come un limite, una difficoltà possa rivelarsi una opportunità e una risorsa. E ancora una volta, lasciatemelo dire, Pordenone che ospiterà il nuovo centro di competenza sulla sostenibilità, sulle energie rinnovabili e sull'economia circolare, si rivela un laboratorio all'avanguardia. Grazie a tutti e buon lavoro. Ringrazio ancora l'assessore Cucci. Chiamo il direttore del mio dipartimento di ingegneria e architettura, la professoressa Ilaria Galofalo, per i saluti del dipartimento. Allora, intanto ringrazio per l'invito e porto i saluti dell'Università, ovvero del dipartimento al quale afferisce anche il collega Reini. Sono molto contenta di essere qui a Pordenone, in realtà non vengo spesso, dovrei di più, perché noi abbiamo un corso di studi qui, attivo presso la sede di Pordenone, che è il corso di Production Engineering Management, che è un corso abbastanza solido, tra l'altro dal lustro all'Università e al Dipartimento, perché è un corso interateneo e internazionale, quindi ci dà l'occasione per consolidare quei rapporti che sono sempre più necessari se vogliamo fare squadra, con i colleghi, ma anche in generale, il senso proprio della collaborazione per raggiungere tanti obiettivi. Oggi si parla di sostenibilità, si parla di economia circolare, sono tutti temi cruciali, temi al centro di tante attenzioni e nonostante tutto, nonostante alcuni dati siano ormai incontrovertibili, ci dicono che si vanno a certa direzione, non so, ho tirato giù delle cifre, il 93% delle più grandi compagnie al mondo ormai redige un rapporto di sostenibilità. Nonostante tutto questo non basta a frenare l'aumento per esempio del consumo dell'energia, perché se cresciamo, continuiamo a crescere e a mantenere degli stili di vita ai quali siamo abituati, nel giro di pochi anni, diciamo, non basteranno tre pianeti per soddisfare le nostre esigenze e nonostante tutto continuiamo a consumare circa il 35% di più di energia di quello che invece si vorrebbe risparmiare per appunto andare incontro al tema della sostenibilità in termini di produrre, di fare di più, fare meglio, però sempre con meno. Con meno significa quindi risparmiare, significa anche porre attenzione agli sprechi, cosa immagino di cui si parlerà anche oggi, significa fare attenzione al ciclo e alle catene in generale, quindi anche alla connessione dei vari aspetti, l'acqua, il cibo, l'energia. Quindi sono tutte veramente tematiche molto, molto interessanti sulle quali non bisogna stancarsi di ragionare, di educare anche non solo gli studiosi che fanno ricerca nel campo, ma soprattutto i cittadini, perché poi alla fine, come dire, siamo tutti cittadini e quando torniamo nelle nostre abitazioni i nostri abiti fanno la differenza. Quindi noi ci mettiamo del nostro in università, naturalmente formiamo delle professionalità che sono molto attenti a questi aspetti, tra l'altro nel Dipartimento di Ingegneria, già per tradizione, è un dipartimento che lavora su tematiche interdisciplinari e molto concrete, cioè direttamente trasferibili poi come risultati di ricerca nella quotidianità, nella realtà, quindi speriamo di poter dare il nostro contributo, ma insomma io penso che ci vogliano anche iniziative di questo genere, con una certa risonanza per sollecitare sempre più le coscienze. Quindi buon lavoro e mi dispiace, dovrò andare via, ma mi fermo per l'ospite, il primo ospite. Grazie, grazie Ilaria. Purtroppo non abbiamo il saluto della Regione Friuli Venezia Giulia, perché l'assessore Scocci Margo ci ha comunicato purtroppo pochi minuti fa che per qualche impedimento dell'ultimo minuto non potrà essere presente. Quindi vorrei chiamare Andrea Zanni, il direttore del Consorzio Universitario di Pordenone, per un breve intervento di saluto. Grazie. Beh, sarà molto breve anche perché su queste tematiche sono anch'io ansioso di ascoltare chi rappresenta un punto di riferimento. Il Consorzio Universitario è da sempre impegnato a valorizzare un territorio con formazione e cultura. Sapete che ormai il Polo Universitario di Pordenone conta più di 1.400 iscritti, ma oltre alla didattica c'è un front di ricerca molto ampio. Ci sono sei laboratori di ricerca e da poco abbiamo anche sottoscritto la creazione del centro di competenza con l'Università di Trieste e con il professor Reini. Quindi tutte queste attività si innestano in un progetto molto più ampio. Grazie anche a un fondo chiamato Fondo Enio Naibo per l'ambiente, una donazione di un cittadino sacilese, abbiamo potuto attivare anche dei progetti di ricerca e un dottorato di ricerca proprio con l'Università di Trieste. Come dicevamo prima, come giustamente ha accennato anche l'assessore Cucci, un Polo Universitario deve rappresentare una risorsa per il territorio e queste iniziative non devono fermarsi al semplice convegno. A seguire le aziende devono sapere che ci sono dei supporti presenti, ci sono dei laboratori di ricerca che possono supportare le aziende in qualsiasi attività di ricerca e sviluppo. E quindi il messaggio che vorrei lanciare oggi è non fermiamoci al semplice convegno, utilizziamo le risorse che sono state create grazie alla collaborazione del territorio, del Comune, della Regione che ha creato un Polo Universitario veramente molto attivo. Purtroppo ci troviamo in una situazione dove spesso queste risorse vengono sfruttate da aziende che invece arrivano da Milano, arrivano da Roma, arrivano dall'estero e magari le aziende del territorio non sanno che anche un centro di competenze, un centro di eccellenza dove le aziende possono trovare competenze e risposte sono invece a disposizione già sul territorio. Io ci tenevo a dire solo questo, ringrazio il professore Inio, l'Università di Trieste con cui collaboriamo ormai da tantissimi anni, abbiamo festeggiato abbondantemente 25 anni di attività e ringrazio la direttrice del Dipartimento che ha giustamente accennato a un percorso di studio che veramente rappresenta un'eccellenza per il nostro territorio. Ce lo riconoscono anche università straniere che hanno la possibilità di testare anche i nostri studenti che poi non solo vengono impiegati in grossissime aziende italiane ma anche all'estero per cui è un attestato veramente di riconoscimento di qualità e di efficienza. Grazie mille a tutti e buon lavoro. Grazie Andrea. Non vedo Paolo Badin. Ecco, perfetto. Allora sarà l'ingegner Badin a portare i saluti dell'Associazione degli Industriali che ci ospita e che ringrazio ancora una volta. Vedo un po' il professore Ine un po' emozionato, si è dimenticato di dire che avesse bisogno nella relazione del professor Paoli della traduzione dietro abbiamo una trentina di cuffiette, insomma, quindi in qualche maniera mastica l'inglese preghiamo di lasciare un po' disponibile a quelli un po' più digiuni. Quindi prima della relazione magari pian piano avvicinatevi a Elisa Zanol. Abbiamo la possibilità anche vicino alla porta i ragazzi dell'università di acquistare il libro di Gunther e Paoli mentre noi siamo riusciti a regalarvi questo piccolo, diciamo, opuscolo di educazione ambientale. Perché questo? Perché siamo tutti impegnati a dire cosa devono fare le imprese, cosa deve fare l'università, cosa deve fare il comune, ma noi cosa facciamo per l'ambiente? Occupiamoci prima di noi perché è una rivoluzione, diciamo, prima di tutto di pensiero, e quindi, insomma, leggevo un commento del cardinale Turkson che sarà qui a Bibiona il primo di giugno citando un po' l'enciclica Laudato Si e dice guardate che non si tratta solo di ecologia ma si tratta di ecologia globale, ambiente, economica, sociale, culturale, umana. Quindi diciamo quei canoni dello sviluppo sostenibile, quei 6 di 17 punti sono collegati e diciamo rientrano nella vita di ognuno di noi. Quindi noi e l'ambiente ma prima di tutto io cosa faccio per l'ambiente. Buon lavoro a tutti. benissimo. No, Francesco, volentieri perché io appartengo al tavolo energia della RUSS, la rete universitaria per la sostenibilità ma abbiamo il piacere di avere tra i datori il delegato RUSS per l'Università di Udine quindi siccome la rete universitaria della sostenibilità è uno degli attori che ha sostenuto questo evento mi fa piacere se dici tu due parole sulla RUSS. Grazie, Francesco. Grazie, Mauro. Sarò brevissimo, e questa è già una premessa pericolosa ma lo sarò veramente. Avete sentito, esiste una rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile. Questa è una notizia probabilmente per molti di voi che non lo sapevano. No, quella cosa che c'è scritta lì, RUSS, è un'esperienza di networking che oggi abbraccia 68 Atenei italiani. Stiamo cercando di avere tutti gli Atenei all'interno della rete. È stata voluta dalla conferenza dei rettori dell'Università italiane. I due Atenei regionali, Udine e Trieste, io nella veste di delegato per l'Ateneo Friulano, il collega Gallenti per l'Ateneo Giuliano, siamo i referenti come tanti altri di questa rete che in questi due giorni, fra l'altro, ha celebrato un evento molto importante proprio a Udine, a cui Mauro ha partecipato, i cosiddetti magnifici incontri, tutti dedicati alla sostenibilità. Quindi il tema è al centro del mondo accademico italiano da tempo, ma lo è oggi in maniera molto particolare grazie a questa rete che, aderendo ad ASVIS, dà anche poi un contributo fondamentale alla realizzazione della circa 1000 eventi che in questi giorni si stanno tenendo in tutta Italia nell'ambito del Festival Nazionale, la terza edizione dello sviluppo sostenibile organizzato dall'ASVIS, il cui portavoce è il professor Enrico Giovannini, che forse qualcuno di voi conosce. Gunther Paoli è stato nostro ospite in questi due giorni a Udine e quindi sono contento di rivederlo qui anche oggi. Questo è quello che l'Università italiana sta facendo e un piccolo esempio, lo sentirete nelle relazioni di oggi quando toccherà parlare a qualche accademico degli Atenei regionali. Quindi buon lavoro e buon ascolto e sicuramente anche molte emozioni che arriveranno dall'intervento di Gunther. Grazie. Benissimo, grazie, grazie Francesco. Allora, adesso, dopo una brevissima pausa per consentire il cambio di computer qui sul tavolo, sono veramente onorato, ho veramente il piacere di introdurre il professor Gunther Paoli, fondatore dell'iniziativa Zeri, che ci parlerà della third dimension, questo concetto presentato in uno dei libri di Gunther Paoli, Restoring Natural Resources and the Environment to Rebuild Communities. Quindi è un tema trasversale che collega la sostenibilità in tutti i suoi diversi aspetti. Quindi, qualche minuto per realizzare il cambio tecnico e poi, Gunther, prego.